Ciao a tutti ragazzi, io sono Virgins di Gaming Tonight e benvenuti nel nostro opening di Rira, Furia Crescente ragazzi Sono soltanto 4 buste perché queste stavano al faro ludico, però io settimana scorsa ho vinto un torneo in tag Quindi ho un altro video dove mi ritrovo con due bustine in più da farvi vedere perché una l'ho comprata e una l'ho vinta appunto E quindi vedrete due sezioni, questa parte dove apro 4 bustine e un'altra parte dove ne apro altre due Quindi sostanzialmente sarà un opening da 6 bustine, in ogni caso ragazzi direi di aprire subito Perdonatemi se non vedete la solita impostazione dei video perché comunque sto andando abbastanza rifletta Direi di incominciare, le bustine le butto così, sono bustine che non servono a niente Abbiamo l'uccichio duimmerato, voltester, vediamo se riesco a mettere meglio a fuoco Voltester, venerazione del vento Yosenju, coleottero reversibile Pugni dei tengi, tengi, tengi senza rivali, non ho ancora capito come si pronuncia Il prossimo è... fusione... no, fuori da qui, oh secret, get out Bellissima ragazzi, bellissima, sembrava il colore della fusione Stori incoglionito ragazzi, è mattina, perdonatemi Stori incoglionito, bella get out, bella, mi serviva, grande Freddo, crionico, cataclismico, corrente, mare, incipessa, fudea del fuoco Giustamente, le carte Salamagna, quando Salamagna non ce l'ho più Perché ragazzi, sì, pessima cosa, cioè, pessima notizia magari per voi A me non interessa onestamente Il Salamagna l'ho dato Vedrete dei nuovi mazzi diversi nei prossimi duelli Il prossimo duello, il tanto duello che vedrete sarà l'ultimo di quelli registrati a maggio Quindi l'ultimo out of the ban list Prossima, onda fuma, incalanamento Yosenjurosh, abbiamo cominciato alla grande Marin principessa, stella marina Perfezione, impeccabile del Tegni, dopo abbiamo Un mostro con effetto Simorg, signore della tempesta, bloccatore barricataborg Freddo, crionico, cataclismico, Elborze, le terre sacre di Simorg Magnisio, magistrico Ottima carta per lo sneak peek 2100 di difesa, è fantastico Ragazzi, wow, wow, cioè veramente Abbiamo cominciato quest'opening alla grande E penso non te lo vedremo altro Perché comunque erano le ultime quattro bustine del box Era pochissima la possibilità di trovare la secret in queste quattro bustine Va benissimo Incalanamento Yosenjuroshi Ranryu, carta devastante lo sneak peek Ve l'ho già spiegato Nel caso andatevi a recuperare il video del report dello sneak peek Voltester Dino Rester anch'io marziale E questo era uno di quelli che cercavo Perché mi serviva il 3x Sto provando a fare il Dino Rester Sì, vi porterò una specie di vista più in là Spirito Tendi Adara Dopo c'è un mostro con effetto Ikelos L'amara specchio dei sogni Dino Rester Rambacchio Territorator Territorator, ecco Fantasia specchio dei sogni Va benissimo Io queste comunazze le ho messe qua Perché mi servono da parte per il Dino Rester Devo vedere un attimo come farlo questo Dino Rester Ultima busta Poi vedrete le due che ho aperto Venerdì scorso praticamente Pescata scarica Lucchikyo Duimmerato Yosenjusabu Tramite per il ciclo del drago Poi andiamo dietro Abbiamo Simorg Volatile della calamità Corrente maricipessa Andiamo a buttare di queste ormai Territorator Va bene E l'ultima foil di oggi È Ikelos Un'altra Ikelos Quindi abbiamo trovato una Ultra E una Secret In quattro buste Wow E poi c'è Vabbè Il vasopuntura spada Yosenjus Io direi ragazzi Pool veramente impressionante Wow Non me l'aspettavo proprio Vabbè A parte le carte Dino Lasciamo stare Però ragazzi Secret E Ultra Non ho parole Ragazzi adesso vi lascio Alla clip Delle aperture fatte Venerdì E Ci vediamo dopo Insomma Dai riprendi un attimo qua Ci sono due di Raising Rampage Evviva Eh 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 Ale oh Ale oh Abbiamo Marco Brandt Simorg Ressler Battaglia del cielo Simorg Yosenjus Sabu Spirito Tennin Amata La metti in tasca questa Se non scappa Morfeo Cavale bianco dei sogni E poi che ti serve? Nient'altro Nulla in realtà Ah L'ho vinta la bustina Quindi la apro Se non mi riprendere Così che sto messo Una pezza Un cicchio Doi in merato Simorg Interlacciatore da soccorso Maria in principessa Stella Marina Tramite Qua c'è un link Se non mi riprendere Simorg Della oscurità Niente Peccato Peccato Oh no Sono veramente triste Bene ragazzi Dopo questa clip Avete visto che Non ho trovato assolutamente niente Venerdì Ma in ogni caso Sti cazzi E niente ragazzi Direi che Può anche finire qui Battles of Legend Ci ha portato male Invece Rira A quanto pare Ci ha portato due secret Tuna lo sneak E una Adesso Più Un'altra ultra Che è la stessa ultra Che abbiamo trovato anche Lo sneak Niente ragazzi Quindi ci vediamo Al prossimo video Domani alle 14 Ciao ciao